In realtà vorrei che si accendessero i riflettori su tutti e tre, nel senso sono tutte e tre questioni molto importanti che riguardano tutti noi, quindi occuparsi di queste cose in maniera concreta e onesta è il massimo. Ma mi attendo solo cose buone, visto che questa cosa accadrà in Italia, accadrà tra l'altro nella regione e nella città che mi ha adottato, perché io sono partito da Ascoli Piceno, mi sono trasferito a Milano, spero che porti tante cose buone per questa città. Il mio cibo preferito è la pasta, conosco personalmente un mio caro amico, Marchigiano, che produce pasta e coltiva il grano proprio nel suo terreno e mi ha fatto conoscere molti aspetti della produzione, appunto della filiera produttiva della pasta e devo dire che nella mia regione d'origine si produce una pasta di altissimo livello.